Ho messo il video, vedate qui. SS283, primo settembre 2017, tratto Guardia Piemontese, paese San Marco. Qui regna il limite dei 70 km orari e la situazione è questa. Si cammina esattamente a 71 km orari. Non si vede perché è davanti. Questo ci sorpassa, una situazione che ci minaccia. E dopo le troveremo più avanti tutti quanti. Eccolo qui, l'iter, il turbo, ha solo i 70 km orari. Eccolo qui, l'iter, il controllo, ha, che glielo. Nooo, no qui ne te? Poniessi me Poniessi me Poniessi me Poniessi me Poniessi me Poniessi me Sarà successa una cosa A qualche parte perché c'è troppo traffico Sarà qualche interruzione Sulla Salerno Reggio Il traffico viene deviato Tutto su La SS283 sta a scorrimento veloce Delle terre Sulla Salerno Reggio Sulla Salerno Reggio Che ti ha fatto? Mi ha fatto male col telefono Non mi arrabbiare Sulla Salerno Reggio Sulla Salerno Reggio Eccoci qui. La galleria si rallenta un altro po'. Se succede qualcosa rimaniamo tutti qua dentro. Mi raccomando, piano, prudenza. Chiarai un po' per il video. Beh, posso fermar proprio questa. Che tu sei scasso il calcio. Eh, tu sei scasso o sei scasso? No. Tu non ne vai. Non ne vai. Non ne vai. E te ne vai? E' una corsa, il calcio. E' un calcio o sei scasso. No, no, no Non è sicuro Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Lascia stare Non c'è Non c'è Non c'è ti spaventi che ti metto sotto una macchina hai detto no no non hai paura che è una macchina di schiaccio hai detto no hai detto no abbiamo capito che c'è il soggetto oh 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 questo è giustamente con il camper in vacanza che può andare più di 60 km di orari ecco e andiamo ma e e s m numero che Sì Attivato Sì Sai che guarda per terra Guardate un po' Non c'è un po' Non c'è un po' Sì 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 Quanta pazienza ci vuole Viaggiare in queste condizioni Mamma mia